Mister, una bella vittoria, arrivata su un campo difficile, difficilissimo per le condizioni del terreno di gioco. Tre punti importantissimi. Sì, abbiamo dopo la battuta d'arresto di domenica in casa, volevamo subito riscattarci. Questa sicuramente non era la partita migliore per farlo perché c'erano le condizioni sia atmosferiche che sul campo molto difficili. Sì, sapevamo che noi non ci saremmo trovati benissimo su questo tipo di campo, quindi ho chiesto ai ragazzi di cambiare totalmente mentalità, di pensare a raggiungere il risultato con altri mezzi, non rinunciando però magari a giocare a calcio. Mi hanno ascoltato alla lettera, hanno interpretato bene la partita e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente propositivi, hanno sempre tentato di accorciare in avanti, non sono mai stati passivi e questo è l'atteggiamento che vorrei che ci fosse sempre anche in casa. Invece magari a volte rinunciamo a questo e facciamo un po' di fatica. Difficile poter fraseggiare bene su un campo in queste condizioni, oggi ce l'avete fatta, questo significa che i valori in campo erano differenti? Sappiamo che noi abbiamo dei valori per la categoria, quando riusciamo a farli vedere anche in campo poi le partite diventano a favore nostro, è che magari ci vuole alla base però la determinazione, la grinta, l'aggressività è pari all'avversario se non maggiore, non basta magari la tecnica per prevalere sull'avversario tante volte. Prestazione buona di tutti, su tutti però di Egidio. Sì, ma sappiamo che Stefano non è un giocatore di questa categoria, anche lui, a me, io gli lo dico sempre che deve essere solo un passaggio questa categoria per lui, però per essere un passaggio deve fornire delle prestazioni come quella di oggi, se non migliori. E adesso c'è il San Gregorio? Sì, sappiamo che è una squadra costruita come noi per vincere il campionato, ci sono dei valori molto alti, noi con tutto rispetto cercheremo di studiare la partita, di prepararci nel migliore dei modi, sicuri delle nostre forze, insomma anche se magari qualche problema c'è di formazione, di assenti, però insomma dopo che uno vede una squadra così oggi non può avere paura della domenica prossima.